l'otto 389 400 monete di tutto il mondo circolate di vari metalli c'è pure un centesimo di euro aprirlo è complicato se lo apro si distrugge completamente vediamo se possiamo fare qualcosa così monete in vario stato di conservazione ci sono già ben 3 centesimi di euro 4 centesimi di euro c'è pure una medaglietta qua se volete altre informazioni scrivete a negoziocchioccioloquattrobaiocchi.com